Ha fatto la gara da solo Mattia Bertelli, li ha seminati tutti, molto lontano Mattia, Mattia Bertelli, guardiamo. Pazzesco, ha fatto la gara da solo, probabilmente Diego Fenaroli, Diego. Diego Fenaroli, Andrea Rigoni hanno fatto la volata, sono andati in fuga subito dopo la partenza in quattro, ma dopo Bertelli ha fatto la gara tutto da solo. Arrivano tutti sbagliati, il gruppo si è spaccato in tanti piccoli tronconi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.